autore salvatore costa scurtore poeta artista la famiglia è un teatro di compagnia in questa era non esiste più qua amanti amanti perché finirà la esqua la gelosia e finirà l'uscizione qua perché non esiste gelosia in questa via la famiglia è come una comedia di compagnia è come una comedia di compagnia che col tempo si allarga di compagnia formando un solo resto di compagnia formando un solo resto di compagnia perché forza e c'è amore d'allegria perché forza e c'è amore d'allegria per la gioia che esiste la convivenza per la gioia che esiste la convivenza che allarga la compagnia d'amore e allegria che allarga la compagnia d'amore e allegria e con la convivenza non c'è gelosia in questa via e con la convivenza non c'è gelosia in questa via e quindi finirà e quindi finirà il divorzio in questa società il divorzio in questa società viva la libertà il divorzio in questa società è il divorzio in questo modo la libertà ha avessato la libertà